Nel polo logistico e direzionale di Contrada Scalepicchio c'è una struttura in grado di offrire spazi utili per ogni attività imprenditoriale. Un immobile di oltre 1250 metri quadri, coperto in parte soppalcato, in cui è possibile acquisire unità modulari a partire da 50 metri quadri fino a 700. Ogni unità è dotata di servizi. Il fabbricato è localizzato in un'area completamente recintata, con adeguata viabilità e parcheggi, apertura automatica dei cancelli e un impianto di videosorveglianza. Le singole unità possono essere utilizzate per attività produttive, artistiche, archivi, laboratori, magazzini, autorimessa, hobbistica, fornitura di servizi. La struttura si trova a meno di 2 km dal centro di Teramo. Visita il cantiere o chiamaci per informazioni al numero 333-6189-505.